Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. E niente di che, 30, non l'abbiamo festeggiato in compri a mio fratello, ma perché l'avevamo festeggiato un giorno prima. Di mattina mi sono preparata perché poi alle 4 del pomeriggio sono andata, anzi no, verso le 3 e qualcosa, sono andata al Cinema Odeon in Corso Buenos Aires, Sara. Ok? Il Corso Buenos Aires che è vicino a un negozio di occhiali praticamente, verso più o meno brignole ma non proprio. Davia 20 settembre, grazie. Davia 20 settembre. Ho visto il talento di Mr. Coccodrillo che parla di un coccodrillo che sa cantare. Per oggi è tutto, lasciate like e iscrivetevi al canale se volete unirvi all'Asia Family, l'ho detto bene. E ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao! Ciao!